Quarantesima Sagra dell'Arrosto, siamo con Giovanni De Biase che è il presidente dell'Associazione Macellai di La Terza. Un numero importante, 40, con lo stesso entusiasmo di sempre, anzi maggiore. Un'occasione per promuovere certamente le qualità gastronomiche del territorio relative al settore del comparto macelleria, ma anche la promozione del territorio, la crescita del territorio. Sì, stiamo festeggiando il quarantesimo anno il lunedì, la domenica stiamo facendo la Sagra come da 40 anni la facciamo. Promuoviamo il nostro territorio, le nostre carni genuine, invitiamo tutti a venire a vedere che cosa succede. È una festa di tutti, ognuno si sente a casa sua, non ci sono vingoli, ci si può divertire, abbiamo attrazione per i bambini, abbiamo per gli adulti, tutto. E bisogna portare l'appetito, la cosa che più interessa, che abbiamo tante cose da proporre, salsicciotti, braciolette, agnello, fegatine, di tutto. Pane, focaccia, di tutto. Tutto all'insegna della cucina casereccia. Andiamo un attimo contro la dieta, mangiamo sta carne che fa bene. Vi farete peccare allora, questi giorni? Faremo assaggiare quello che è possibile, a sazietà, li aspettiamo tutti numerosi. E poi c'è anche il momento musicale, un momento di intrattenimento. La festa è dei 40 anni, quest'anno la facciamo con i Terra Rosse in piazza e tutte le attività commerciali aperte a disposizione di chi vorrà rimanere a continuare la festa, fino a quando vuole, alla noia. Lo start, l'inizio a che ora? Dalle 8, dalle 20 già siamo operati. Sì, no, a tarda notte. Alla noia. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti